Siamo con Marco Darold, giovane talento bellunese del motociclismo, è iniziata anche per te Marco la stagione 2024, un inizio col botto a Misano Adriatico nel Chief Junior, raccontaci com'è andata. Il weekend è iniziato benissimo con una pole position il sabato per poi continuare con la domenica con un bel primo posto. Oltre alla gioia di vincere una pista come quella di Misano, è stato fondamentale anche ricevere gli applausi e complimenti da parte di amici e piloti del mondiale. Come per esempio Alessandro Morosi che è pilota Moto3 al mondiale oppure Salvadori, pilota dell'Aprilia in MotoGP. Sicuramente questa vittoria la voglio dedicare al papà che comunque è stato male pochi giorni fa e quindi se la merita tutta e soprattutto anche al team. Il team è un team nuovo, da quest'anno una nuova squadra, raccontaci qual è il tuo rapporto con loro, come ti trovi, come sta funzionando la nuova moto. Con il team mi trovo molto bene, abbiamo avuto poche occasioni per allenarci insieme ma il feeling è alto fin da subito. La moto va fortissimo e siamo molto molto contenti. Quali sono quindi ora i prossimi appuntamenti e che obiettivi ti dai per questa stagione? Il prossimo appuntamento ce l'abbiamo il 5 maggio a Magione a Perugia e chiaramente l'obiettivo è quello di mantenere la leadership del campionato arrivando nuovamente primi.